Esatto, avete capito bene dal titolo, vediamo Milan-Roma tutti assieme, ora vi spiego Bella ragazzi e buonasera a tutti perché siamo qui con il secondo video del giorno Completamente cosa eccezionale sul mio canale, intanto se ne porto uno ogni due giorni No, stiamo già a due al giorno, incredibile Ma comunque oggi siamo qui per parlare di una cosa abbastanza delicata Sia a livello, e bella comunque per carità, sia a livello personale che a livello nostro, di Youtube Di tutto quanto, che voglio darvi una notizia che riguarda più da vicino, soprattutto chi di voi vive a Roma o dintorni Perché come ben sapete, se non lo sapete, ve lo sto dicendo adesso, il 7 maggio alle 20.45 ci darà la sfida di campionato Milan-Roma E io ringrazio Seekwolf da subito perché mi ha coinvolto e quindi lo ringrazio E vi spiego cosa stiamo andando a organizzare, cosa abbiamo già organizzato Come state vedendo dalla locandina che vi ho messo da qualche parte, che io in questo momento ho qui Avremo la possibilità di vedere la partita tutti assieme tramite gli ASR Music Non so se li conoscete, non so se seguite le loro dirette durante ogni partita della Roma Praticamente, all'interno delle quali sono in un locale generalmente, in un ristorante Commentano anche la partita Bene, questa volta hanno deciso di fare una cosa più in grande Ovvero hanno coinvolto Seekwolf e poi altri ospiti Tra cui anche me e altri nomi che state vedendo in grafica o che comunque scoprirete poi E la bella cosa, a livello personale, è quella proprio, oltre chiaramente a passare una bella serata assieme agli altri Quella di poter commentare alcuni pezzi del match Infatti, come state leggendo dalla locandina, c'è chiaramente scritto Trasmissione della partita su Maxi Schermo Commento dal vivo della partita da parte degli ASR Music Seekwolf e gli ospiti della serata Quindi me e poi gli altri Chiaramente, come leggete sempre dalla locandina, nulla è gratis Ma semplicemente perché se ve volete imbucà Vabbè, io non vi ho detto niente Però se volete fatelo che si divertino Nel dubbio, chiaramente, anche visto l'orario, c'è possibilità di cenare Infatti, per chi volesse essere presente alla serata C'è proprio il menù 15 euro per la pizza 25 per la pasta C'è chiaramente scritto che l'appuntamento O comunque l'orario di inizio della serata dell'evento è alle 19 Al ristorante Le Streghe in via Tuscolana 643 Roma Che dire, io spero di non essermi dilungato più di tanto Volevo comunque rendervi partecipi di questa bella serata che ci sarà Ve lo ricorderò sicuramente poco prima della partita E per poco prima della partita intendo in qualche video antecedente E intanto ve l'ho detto qui Ovviamente vi lascio in descrizione gli altri partecipanti Ringrazio ancora Sickwolf Spero di vedervi numerosi all'evento Chiaramente sbrigatevi, raga, a chiamare Perché essendo un evento che comporta la partecipazione di altri youtuber È chiaro che la gente si sbrigherà a chiamare E poi, se non vi sbrigate voi, rischiate di rimanere fuori E chiamatevi, dicono no, è tutto prenotato E vi attaccate al... I need you, I need you, I need you right now Ma comunque, il video è finito Comunque sia, raga, forza Roma Io vi do appuntamento ai prossimi video che usciranno in settimana Giovedì il prossimo E poi sabato il videone pazzesco Con l'Ultimate Crew e EOM Ovvero le challenge che stanno uscendo in settimana Quindi voi monitorate anche gli altri canali Ma, ripeto, per il momento è tutto Lasciate like a questo video Se avete dubbi, in descrizione Trovate tutte le informazioni Contattatemi soprattutto sui social Instagram, Facebook e Telegram su tutti Per saperne di più Ma soprattutto sbrigatevi a prenotare Noi ci becchiamo con i prossimi video E ci becchiamo soprattutto il 7 Con questo evento per Mila Roma Un bacione e bella Don't let me go